Aggredita nella sua abitazione di San Giovanni Rotondo nella tarda mattinata di sabato 25 maggio, Rachele Covino, 81 anni, è morta a causa di un trauma cranico che ha provocato un'importante perdita ematica. E quanto emerso dall'autopsia svolta all'Istituto di Medicina Legale di Foggia, l'esame, durato circa tre ore, ha escluso l'utilizzo di armi bianche e lo strangolamento. Per l'omicidio è stato arrestato Fabio Carinci, 43 anni, immediatamente individuato dai carabinieri, nei pressi dell'abitazione della vittima, nudo, ricoperto di sangue, in stato confusionale, poi ricoverato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di San Severo. Secondo i primi risultati dell'autopsia, l'anziana sarebbe stata aggredita e scaraventata contro una porta o un mobile, riportando il grave trauma cranico che ha causato la morte. Il corpo della vittima presentava una profonda lacerazione al capo, ma non c'erano segni di collutazione. L'aggressione sarebbe durata solo pochi minuti, impedendo alla donna di reagire. La famiglia è sconvolta dall'accaduto, perdere la propria madre in modo così tragico è qualcosa che lascia senza parole, ha dichiarato l'avvocato Raffaele Di Sabato, legale dei familiari della vittima, insieme all'avvocato Gianfranco Di Sabato. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano e saranno ufficiati dall'arcivescovo Franco Moscone. Il sindaco Michele Crisetti, che ha dichiarato il lutto cittadino, ha invitato la comunità a stare vicina alla famiglia della vittima e a tutte le famiglie che hanno vissuto momenti di terrore quel tragico sabato.